In Ateneo le prime due studentesse ucraine scappate dalla guerra. Le donne di Unicam hanno raccontato storie di donne che hanno voluto e sostenuto percorsi di pace. Anche gli studenti Unicam impegnati nelle audizioni live di musicultura. Brevettato da Unicam, un giallo innovativo per far ingerire farmaci a pazienti disfagici. Benvenuti a questa nuova puntata di Unicam News. Vediamo insieme il primo titolo. Il Rettore Claudio Pettinari ed il Delegato dell'Internazionalizzazione Emanuele Tondi hanno accolto in queste ore in Ateneo due studentesse dell'Università di Kiev. Si chiamano Olga Moisenenko e Olga Apanovic, fuggite dalla guerra che sta sconvolgendo l'Ucraina. Ad accompagnarli in Italia è stata la prorettrice Olena Motuzenko, che da tempo ha rapporti di collaborazione con Unicam nell'ambito del Master in Wine Export Management e che sarà a Camerino fra qualche giorno. Anche Olga Moisenenko è stata studentessa di quel Master nel 2019 ed era stata a Camerino. Sono molto preoccupata per mia mamma e mia nonna che sono rimaste a Kiev e non so per quanto tempo riusciranno a resistere. Il mio cuore è con loro. Vorrei ringraziare Unicam. Poter essere qui mi fa sentire un po' meglio. Anche se la preoccupazione per i miei genitori rimasti in Ucraina è tanta, loro sono sempre nei miei pensieri. Ritengo molto importante poter rimanere sempre in contatto con loro. Spero che la guerra finisca presto, così da poter ritornare nel mio paese. Quando senti le bombe esplodere, persone urlare, uccise, carri armati, ogni rumore intorno a te, una macchina che passa, pensi sia una bomba o un mezzo militare. Chi vive in paesi in cui non c'è la guerra non si rende conto di quanto sia invece importante, importantissima, la pace. C'è un valore per questa pace e dobbiamo valorizzare questo. In occasione della giornata internazionale delle donne, l'Università di Camerino, su iniziativa della prorettrice alle pari opportunità e tutela della persone del Comitato Unico di Garanzia dell'Ateneo, ha organizzato un incontro sul tema 8 marzo, storie di pace, nel corso del quale le donne di Unicam hanno raccontato le storie di donne che hanno cercato, costruito, voluto e mantenuto percorsi di pace. Due studentesse, due ricercatrici e due tecniche amministrative, Lisa Tonini, Vita Zaccaria, Silvia Vincenzetti, Tatiana Guidi, Claudia Caprodrossi e Manuela Caolini, hanno presentato le storie di Betty Williams, Malala Yousafzai, Lice Meissner, Berta Von Sutner, Vangari Matai, Jane Edams. All'incontro, aperto dai saluti del rettore Claudio Pettinari, della prorettrice Barbara Re e della presidente del Cug Stefania Silvi, hanno partecipato e portato le loro testimonianze Akhila Faramand, assegnataria di una delle borse di studio Unicam, destinate alle studentesse afghane, e Olga Apanovic e Olga Moisenenko, le due studentesse fuggite dall'Ucraina ed accolte da Unicam. Abbiamo organizzato in questa giornata internazionale della donna un momento di condivisione con le donne Unicam, le abbiamo invitate a raccontare storie di donne che hanno costruito la pace e pensiamo che attraverso queste storie si possa creare una consapevolezza diversa nella nostra comunità. Con noi saranno anche le studentesse afghane e ucraine che sono appena arrivate nella nostra comunità proprio per sottolineare che sono parte integrante di Unicam e di tutta la nostra comunità studentesca. Si sono concluse domenica 6 marzo le audizioni live dell'edizione 2022 di Musicultura che hanno visto impegnata anche la giuria composta dagli studenti Unicam e coordinata dal professor Roberto Giambò. Nel corso delle dieci serate le studentesse e gli studenti hanno ascoltato tutte le proposte dei cantatori che ogni sera si sono esibiti sul palco del Lauro Rossi di Macerata segnalando le proprie preferenze alla giuria tecnica del festival diretto da Ezio Nannipieri. Pur avendo una formazione prevalentemente scientifica gli studenti giurati si sono messi subito all'opera concentrandosi su melodie, testi, arrangiamenti ed interpretazioni. Ospite d'eccezione nella serata di venerdì 5 marzo anche il rettore Claudio Pettinari che al termine della serata ha consegnato la targa alla vincitrice del premio del pubblico a Sofia Rollo. Per i pazienti disfagici la somministrazione di farmaci rappresenta un'enorme difficoltà tanto che per gli operatori spesso devono somministrare delle manipolazioni ritenute non sicure. È per ovviare a questo che il gruppo di ricerca coordinato dalla professoressa Giulia Bonacucina della Scuola di Scienze del Farmaco e dei Prodotti della Salute ha ideato e brevettato una nuova ed innovativa formulazione una formulazione in gel idonea e stabile per garantire di continuare la terapia farmacologica anche se il paziente ha sviluppato incapacità nella deglutizione. Il nostro progetto che è stato sviluppato sia come gruppo di ricerca alla tecnica farmaceutica sia in collaborazione con Farm and Food Consulting che è una spin-off universitaria e anche in collaborazione con l'IRCA ha portato allo sviluppo di un prodotto di un prodotto celificato innovativo. Innovativo perché? Innanzitutto perché è possibile andare a disperdere direttamente le forme farmaceutiche originali all'interno del veicolo, quindi dell'acqua che poi verrà utilizzata per fare il gel riducendo al minimo tutte le manipolazioni e le operazioni che generalmente l'operatore sanitario deve fare riducendo quindi il rischio di perdite di principio attivo e anche gli errori di dosaggio. Ma innovativo anche perché in realtà abbiamo constatato che non ci sono modifiche di rilascio alla genetica del principio attivo e quindi nel finale anche dell'efficacia del principio attivo stesso. Questo progetto, questo prodotto è stato anche ed è oggetto di un brevetto che è stato concesso italiano, concesso a marzo del 2020 e anche sottomesso a livello europeo. Non ci siamo fermati qui però perché in realtà quello che abbiamo pensato è se riusciamo a automatizzare l'intero processo, quindi a creare un macchinario che in realtà produce questa forma farmaceutica finale e quindi riducendo ancora di più quelli che sono i rischi derivati ad esempio da una perdita di principio attivo durante l'operazione di manipolazione o all'errore umano, riducendo anche i tempi di preparazione. Questo è importante perché gli operatori sanitari sono sempre tanto impegnati e quindi in questo modo potrebbero dedicarsi ad altre attività, riducendo rischi e costi anche per l'operatore stesso che si trova comunque spesso a manipolare i principi attivi abbastanza pericolosi. E così adesso abbiamo fatto domanda di brevetto, quindi siamo in fase di brevettazione ma anche in fase di prototipazione di questo macchinario che stiamo realizzando sempre in collaborazione con Farm and Food Consulting. Non ci siamo fermati qui perché poi abbiamo anche realizzato sempre in collaborazione con Farm and Food Consulting, operatori al settore sanitario, quindi farmacisti, ospedalieri e sviluppatori informatici, una piattaforma web-based, praticamente un supporto informatico dove basta semplicemente fare l'accesso, un login e poi selezionare il farmaco di interesse per nome del principio attivo, per nome commerciale del medicinale oppure per il numeretto dell'IC dell'autorizzazione dell'immissione in commercio che tale medicinale ha ottenuto, entrare nella scheda tecnica del medicinale, quindi caratteristiche del principio attivo, della forma farmaceutica e c'è proprio tutta una serie di consigli sulla gestione della manipolazione di questo medicinale. Quindi è un supporto, una vera e propria guida per il medico prescrittore ma anche per tutti i caregiver che si trovano quotidianamente ad affrontare la problematica della manipolazione di questi medicinali per la somministrazione in pazienti che hanno difficoltà di deglutizione. Grazie per averci seguito, vi invitiamo a seguire la pagina istituzionale del sito web di Unicam. Alla prossima puntata di Unicam News. Alla prossima puntata di Unicam.